Ben trovati a tutti i nostri telespettatori a questa nuova puntata del ciclo economia prima e dopo in cui il sottoscritto Alberto Di Martino in compagnia dell'amico e collega Giuseppe Fischetti vi parleranno di un nuovo argomento. Ben trovato anche a te Alberto oltre che naturalmente ai nostri telespettatori. L'argomento che oggi la puntata di economia prima e dopo intende trattare è dedicato al commercio. Certo che nella giornata di oggi riaprirà alcuni dei suoi battenti, è un po' una giornata vista come una libera a tutti, anche se in dettaglio non è esattamente così, ma festeggiamo anche noi la riapertura dei nostri nuovi studi radio-televisivi che, come si vede, non sono ancora completati, ma che comunque ci permettono di essere più presenti e più professionali. E lasciami ringraziare i nostri scenografi che ci hanno allestito in tempi record la postazione dalla quale oggi possiamo condurre la nostra trasmissione. Senz'altro troveremo altre sorprese, ma non vi posso anticipare nulla, anche perché non le conosciamo, ma vedrete senz'altro che ci saranno delle novità che allieteranno anche il vostro guardare la nostra trasmissione e sarà interessante oltre che con gli argomenti anche visivamente. Tolta questo aspetto direi che possiamo dare il via a questa puntata. Quindi oggi parliamo del settore del commercio, intendendo con questo tutta la rivendita sia al dettaglio sia all'ingrosso e di qualunque genere, che normalmente sono divisi in food e non food. Iniziamo dando due numeri dimensionali per capire di che cosa stiamo parlando. Recentissime stime svolte dalle associazioni datoriali danno che per il primo trimestre 2020, in contrapposizione allo stesso trimestre 2019, probabilmente avremo una riduzione dei consumi tra l'8 e il 10%, considerando che poi il solo mese di marzo avremo un crollo di oltre il 30%. Del mese di aprile non abbiamo ancora alcun tipo di stima, ma molto facilmente sarà dello stesso ordine di grandezza. Il tutto significa che per il 2020 possiamo aspettarci un crollo di circa 80-90 miliardi di euro. Beh, certamente Alberto, dai numeri che tu hai poc'anzi messo in evidenza, la situazione non è così rosea per come si prospettava. Nessuno immaginava comunque che tutto andasse bene, ma probabilmente altrettanto nessuno immaginava che i numeri fossero di questa portata. Ma siamo qui in un ambito di proiezioni, siamo in un ambito di statistiche. Poi ci si scontra sempre come avviene con la realtà. Dobbiamo tener conto in questo momento di ripresa un fattore importante, e cioè che abbiamo fermato una macchina in corsa, quella dell'economia, e all'interno dell'economia vivono più anime. E ognuna di queste ha una sua caratteristica. Quando si è di fronte a uno stop forzato, la capacità di reazione dei singoli non è uguale, non è omogenea, perché risente ovviamente di quelle che sono le peculiarità del settore. Quindi non ci aspettiamo che ci sia una soluzione che possa andare bene per tutti. Infatti nel settore del commercio accade la stessissima cosa, e seppur ipotizzato che si possa, come dire, rimodulare il tutto, basta dare l'opportunità alle persone di uscire per rimettere in pista l'attività, così non è. Infatti, all'interno dello stesso settore del commercio abbiamo settori che ripartiranno scaglionati, per ovvi motivi che sono di ordine di salute pubblica. Infatti, tra i settori esistenti all'interno del commercio, per esempio, il settore dell'abbigliamento ripartirà in data 18 maggio, mentre il settore della ristorazione addirittura ripartirà il primo giugno. Ora, è chiaro che bisognerà fare i conti con quanto accadrà in questo periodo che è di ripresa, è stato dichiarato quindi da ieri la ripresa, a questo punto dobbiamo anche vederne quali sono gli effetti che si baseranno tantissimo sugli indici comportamentali che ognuno di noi avrà. Per avere una dimensione realistica di quello che sta per accadere in ambito del settore del commercio, abbiamo chiesto a due esponenti dei settori, quindi il primo dell'abbigliamento e il secondo della ristorazione, qual è il loro pensiero in termini di ripartenza, chiedendogli soprattutto, innanzitutto, quale sarà il loro comportamento alla riapertura e successivamente che cosa immaginano possa accadere. Il primo contributo lo abbiamo ricevuto da Alfredo Mignogna, che è un commerciante del settore abbigliamento e ascoltate che cosa ci ha detto. Sì, per quanto riguarda l'apertura del 18 aderisco, con la speranza che i contagi non aumentano e le autorità sono costrette a prolungare il lockdown. Per quanto riguarda le cose che accadranno dopo è un'incognita che dobbiamo affrontare tutti. La principale cosa è acquisire la clientela per farla ritornare in negozio, con la massima attenzione in riguardo alle disposizioni sanitarie. E poi un'altra cosa è un aiuto concreto dello Stato, senza la mediazione della banca, magari un accordo diretto Stato-utente per ripartire, altrimenti è la fine. Il messaggio è molto chiaro, c'è tensione, c'è paura, c'è voglia di riacquisire la propria clientela che è il motore della ripresa dell'attività, ma c'è anche l'aspetto di natura finanziaria che è determinante. Quindi non sarà sufficiente la ripresa della clientela se non ci sarà una probabilità di sostegno economico che aiuti a portare avanti l'attività nel tempo e secondo le caratteristiche che man mano che andremo avanti andranno a determinarsi. Continuiamo nel dare due numeri per capire. I tre quarti della perdita, del calo dei consumi che abbiamo prima tratteggiato, sono imputabili a pochi settori di spesa, in particolare bestiario e calzature, automobili e moto e i servizi recreativi e culturali e naturalmente, oggetto anche delle nostre ultime puntate, alberghi, bar e ristoranti. In particolare questi due sono quelli che ovviamente, essendo praticamente ferma l'Italia, registrano le perdite e i cali più importanti. Dopo questi ulteriori dati che ci hai gentilmente forniti, io vorrei farvi ascoltare dalla diretta voce del secondo nostro intervistato che è Giampiero La Terza, Presidente dei Ristoratori per Conf Commercio Taranto, qual è il suo pensiero in merito all'apertura che riguarda il settore della ristorazione e che dovrà avvenire il primo giugno. Dopo averlo ascoltato, senz'altro, potremo prendere ulteriori spunti e continuare nel nostro dibattito. A questo punto prego la regia di mandare in onda il contributo di Giampiero La Terza. Cominciamo col dire che il primo giugno è una data posta così in avanti che bisognerà effettivamente vedere quante aziende riusciranno poi a riaprire. Questo per vari motivi. certamente il primo tra tutti è il tema della liquidità per le imprese. Va chiarito un aspetto. Liquidità per le imprese secondo me significa soldi a fondo perduto e o a zeramento dei costi aziendali. Certamente non significa ulteriore indebitamento, anche se garantito dallo Stato. O questo andrebbe anche bene se l'ulteriore indebitamento servisse ad esempio a rimodulare l'impianto debitorio dell'azienda in modo da adattare questo impianto alle nuove capacità reddituali alla riapertura. Quindi di nuove capacità di restituzione del debito. infatti da questo punto di vista la situazione è tutt'altro che rosea. Le aziende si ritroveranno a ripartire sì, ma con il freno a mano tirato, con una capacità produttiva che può anche arrivare a essere ridotta ad un terzo del precedente. Quindi le strutture risulteranno sovradimensionate negli spazi, ovviamente per le nuove direttive, ma soprattutto sovradimensionate nei costi. Per inciso sarebbe oltremodo utile ad esempio che le linee guida per la riapertura fossero già disponibili ora in modo da permettere alle aziende di verificare con il nuovo layout aziendale i livelli di performance che auspicabilmente potranno attendere. È essenziale per un imprenditore poter valutare la fattibilità dell'impresa, oltre che per la redditività anche per far fronte all'esposizione debitoria, come dicevo prima, che era calibrata sui flussi di cassa ante Covid-19. Senza dimenticare poi quello che è un aspetto altrettanto importante dei precedenti, il fattore psicologico del cliente. Nei nostri ristoranti fino a ieri, più che il cibo, il cliente ricercava atmosfere, esperienze, convivialità, aggregazione, tutte cose difficili da offrire ora se non addirittura espressamente vietate. Nel ristorante con camerieri, infermieri, procedure ormai simili ospedalieri per l'accesso e barriere di plexiglass alle casse. Non so davvero come faremo a riprodurre un ambiente in cui passare qualche ora di svago e serenità. Certamente dovremmo ricorrere a tutta la nostra esperienza e a tanta creatività. Ecco Alberto, allora due gli elementi che vengono fuori e che possiamo prendere in questa risposta abbastanza completa che abbiamo ricevuto dal presidente dei ristoratori di Comfcommercio Taranto. Il primo è un elemento di natura tecnica e il secondo di natura finanziaria. In ambito tecnico, ci tornerei dopo, vorrei prendere quello di natura, l'elemento di natura finanziaria. Da quello che abbiamo potuto capire, sì ho bisogno di finanza, dice il diretto interessato, ma non voglio finanza che mi porti ulteriore indebitamento o perlomeno potrei anche accettare una condizione di ulteriore indebitamento, ma che mi aiuti a ripianare gli impegni che ho già preso, perché da questo ragionamento si comprende benissimo quello che dicevo all'inizio, cioè abbiamo fermato una macchina in corsa, non è così semplice, non è che rimettiamo una chiave nella serratura, giriamo e si riparte con le stesse caratteristiche. inevitabilmente ci sono situazioni che dovranno essere normalizzate. Allora c'è chi propone una finanza senza un aiuto, quindi un contributo senza vincoli particolari, addirittura sentivamo il contributo di Alfredo Mignogna che diceva finanzia non condizionata alle banche, non voglio avere rapporti con le banche, io voglio un aiuto direttamente dallo Stato, quindi one to one. il presidente La Terza invece dice sì aiutateci finanziariamente ma toglieteci anche il gravio delle tasse che abbiamo da pagare, cioè aiutateci a rimodulare i conti economici della nostra azienda. C'è una strategia o perlomeno quale delle due potrebbe essere più importante, finanza senza abbattimento delle tasse o entrambi, oppure nessuno delle due? Beh evidentemente la strategia migliore appare essere quella di trasformare le perdite di reddito del settore privato in maggiore debito pubblico, altre soluzioni non se ne intravedono, anche perché come è stato detto precedentemente non è la crisi di un settore che in qualche modo si è propagato ad altri come è stato visto con la crisi finanziaria del 2008, ma è una crisi che ha colpito trasversalmente tutti i settori e tutti contemporaneamente e andando ad incidere sia sulla parte consumo sia sulla parte produzione e quindi è difficile come dire ipotizzare un attore rimasto in piedi che non sia lo Stato che possa dare una mano per risollevare la situazione economica. Ed è proprio per questo che parrebbe dalle bozze del decreto aprile diventato del decreto maggio, il DL maggio, che ci siano dei fondi, dei finanziamenti a fondo perduto per le micro imprese, cioè fino a 9 dipendenti, pari a 5.000 Euro, ancora comunque da verificare. Sicuramente ci sarà la sospensione, o meglio non la sospensione, la compensazione in forma di credito d'imposta delle spese, delle utilities, cioè luce, gas e acqua. Infine adesso il secondo aspetto che non reputo inferiore come importanza, quello di natura finanziaria e lo prendo anche questo dal contributo che ci ha dato Giampiero La Terza, e cioè la struttura del ristorante era diventata, secondo una nuova impostazione strategica e economica, il luogo di relazione. Cioè, lo ha detto chiaramente, da noi non si veniva tanto per mangiare il cibo quanto per gustarsi il piacere di un ambiente, di un comfort, fatto da buona musica, fatto dalla giusta intensità delle luci, cioè si è lavorato in quella direzione. Oggi con le restrizioni che ci sono, di natura obbligatoria, tecnica e anche giusta, sottolineo, comunque ci sarà per forza un cambio, una rimodulazione, cioè un reinventare la struttura a seconda delle nuove esigenze. Cosa si potrà fare a questo punto, o perlomeno qual è la strada più giusta da intraprendere, perché quello della ristorazione è l'ambito che oggi stiamo esaminando, ma credo che nella stessa condizione saranno senz'altro i pub, saranno per altrettanto le discoteche, cioè tutti quei luoghi di grande aggregazione. Beh, diciamo due cose. Da una parte si parla, nella bozza del decreto legge di maggio, di un bonus, cosiddetto bonus vacanze, per un importo da 350-500 Euro da destinarsi alla spesa per turismo sul territorio italiano. E questo sicuramente potrebbe spingere qualcuno a fare qualche gita fuori porta in più. Però è chiaro che non è sufficiente e probabilmente non lo sarà mai da solo, perché come giustamente hai detto tu, alcuni consumi, chiamiamoli così, alcuni servizi non sono dei meri approvvigionamenti tecnici, non sono delle meri somministrazioni, sono esperienze, sono, come dire, vissuto, sono emozioni anche da un certo punto di vista. E quindi se io devo pensare di tornare, perché poi questo sarà, non andrò alla scoperta, andrò a rivedere, a riassaggiare vecchie atmosfere, trovarmi poi i separei in plexigas tra un tavolo e l'altro, i camerieri con la mascherina, il gel all'ingresso, delle utensillerie usa e getta o altro, è chiaro che quell'atmosfera che io cercavo, che ricordavo, avviene molto meno. Quindi quale può essere la soluzione? La soluzione è sicuramente essere creativi, inventarsi, per questo cito un'esperienza del Comune di Fano che sta cercando di portare avanti, replicando un'esperienza messa in atto dal Comune di Binius, che è quella di poter esporre su strada sia i tavolini, come già li conosciamo per i bar e i ristoranti, ma anche per tutti gli altri esercizi commerciali. In Italia è un po' più difficile da realizzare, ma ricordiamoci che il nostro Paese è fatto da borghe e città antiche che sono state costruite quando non c'erano le automobili e quindi per loro conformazione sono più fruibili ad un pedone che non ad un'automobile. Nel caso della città di Fano ovviamente non ci sarà un aggravio delle tasse di occupazione del suo pubblico e sarà probabilmente estesa tutta la zona traffico limitato. Quindi è un modo per creare una nuova convivialità che rischiamo di perdere. E con questa riflessione di Alberto chiudiamo la trasmissione di oggi, di Economia prima e dopo, con questo focus sul settore del commercio. Ovviamente ci auguriamo che questa ripresa che è iniziata soltanto ieri sia davvero iniziata nel modo migliore e tra 15 giorni non ci riservi nessuna sorpresa. Speriamo davvero che ciò non avvenga neanche prima tra l'altro ma sembra che i 15 giorni saranno determinanti per capire che grado di normalità riusciremo a raggiungere al più presto. Grazie ancora per averci seguito e vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto a tutti gli telespettatori, ricordo per domande, commenti e critiche contatti chiocciolabagsrls.it Arrivederci! Grazie a tutti!